A voi tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di nuova televisione si Intitola Sapori a colori, sconfiggere la malattia con la buona cucina, la ricetta ideata da Paolo Palumbo contro la SLA, il più giovane ragazzo italiano ad essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica ha scritto assieme allo chef Luigi Pomata un libro dedicato al cibo, ne abbiamo incontrato gli autori, sentiamo che cosa hanno raccontato ad Alessandra Polco Sapori a colori, un libro molto particolare con delle ricette particolari È un libro normale, è un libro per tutti, dedicato al sociale perché è giusto fare questi interventi, li chiamiamo È un libro dedicato alla buona e sana cucina prima di tutto, con ricette normali e dopo facendo attenzione a quello che mangiamo perché noi siamo quello che mangiamo Quindi stando attenti a tutti gli ingredienti che abbiamo, fortunatamente in Sardegna ne abbondano, impariamo a utilizzarli Sono ricette colorate, non solo per i malati di SLA o chi ha problemi di glutizione ma un ricettario per tutti Il libro è particolare perché ha una finalità particolare? Certo, noi scherziamo perché è giusto scherzare, perché bisogna dare vita, dare speranza e dare qualcosa a queste persone La particolarità è che è uno studio che c'è dietro per il Centro Nemo e non solo per il Centro Nemo, per dare un'aiuto alla ricerca Paolo hai sentito proprio l'urgenza di scrivere questo libro? Sì, perché comunque riportavo una cosa molto importante, aiutare chi sta male vedendo comunque al futuro Sono sicuro che troveranno una cura prima, però pensando a chi già sta male e vedendomi al futuro della malattia Perché sono una persona molto coerente, ho credito che ci sono troppe persone che non deglutiscono bene Perciò era bene che trovassimo una soluzione molto velocemente in secondo un sogno che la cosa cucina E mi pare di esserci riusciti molto bene Non dimentichiamo che acquistando questo libro si può naturalmente aiutare alla ricerca Sì, perché il libro oltre che per aiutare i pazienti, non deglutiscono, è fatto per aiutare i pazienti Cioè l'intero ricavato verrà dato alla ricerca per la SLA E allora bisogna dire che bisogna acquistarlo Lo trovano in tutta Italia in vendita, in tutta Italia in liberia, perciò dovete comparlo tutti E intanto la ricerca sulla SLA va avanti In vent'anni sono stati fatti passi da giganti, ma tanto altro resta da fare I ricercatori impegnati nello studio della sclerosi laterale ammiotrofica sono numerosissimi Noi ne abbiamo incontrato uno, il dottor Mario Sabatelli, direttore del centro clinico NEMO di Milano Sentiamolo La Sardegna per noi ricercatori è una sorta di laboratorio La prevalenza della malattia è uguale a quella del resto d'Italia Però in Sardegna vi è un'alta componente genetica della malattia E in questo momento una strategia importante per scoprire le cause della malattia È scoprire le alterazioni del DNA che predispongono alla malattia Questo secondo me è anche una strategia che ci porterà alla terapia Perché se noi capiamo i meccanismi genetici possiamo capire il meccanismo con cui si ammala questa cellula Che provoca la paralisi, il moto neurone E possiamo individuare degli obiettivi per trovare nuove terapie Il ricercatore è per definizione ottimista Però guardando a quello che è successo negli ultimi vent'anni nella storia di questa malattia Prima non sapevamo niente, adesso sappiamo tante, tante cose Non ancora sufficienti per arrivare a una terapia Ma la ricerca sta andando avanti in maniera direi entusiastica Sì, posso usare questo termine per noi ricercatori E questo ci fa ben sperare che l'obiettivo sia vicino Domani, domenica 19 marzo Il referendum che chiamerà alle urne gli oristanesi per il quesito su Abanoa Polemica per il servizio d'ordine garantito solo dai vigili urbani Lasciare il servizio idrico in mano ad Abanoa O provare la strada della gestione diretta da parte del comune È il tema del primo referendum consultivo circoscritto al solo comune di Oristano Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata dalle 8 alle 20 Mentre lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi Sulla scheda gli oristanesi troveranno il seguente quesito Volete voi che il comune adotti tutti gli atti ed effetti tutte le azioni necessarie Affinché Oristano possa gestire direttamente il servizio idrico? Il comitato promotore ritiene che togliere il servizio da Abanoa sia possibile E chiede di votare sì A contestare il referendum ufficialmente solo il sindaco Secondo Tendas l'esito del voto non cambierà di una virgola all'attuale gestione Tutti gli elettori dovranno votare nella sezione elettorale in cui risultano iscritti Così come indicato nella tessera elettorale Le sezioni elettorali sono 36 come in qualsiasi altra consultazione Polemiche sul servizio d'ordine La prefettura si è chiamata fuori e a garantire il presidio nei seggi saranno solo i vigili urbani Chiamati quindi ad uno sforzo straordinario Curi Arcivescovile e Comune di Cavras Insieme per valorizzare il sito archeologico di Monteprama Questa mattina è stato siglato un accordo per la messa in sicurezza Dell'area di circa 8.000 metri quadri Sentiamo La chiesa è sempre insomma madrina di cultura E promotrice di cultura E la cultura va condivisa Non può essere usufruita egoisticamente per conto proprio Quindi penso che la Curi in questo momento è ben felice di mettere a disposizione la sua proprietà Perché possa diventare luogo di culto della memoria Di culto della storia che è alla base delle nostre identità Parole sante e il caso di dirlo Che diventano fatti concreti Grazie all'accordo siglato da Curi Arcivescovile e Comune di Cavras Per la valorizzazione del sito archeologico di Monteprama La prima mette a disposizione i terreni Il secondo si impegna a mettere in sicurezza l'area Grazie alla Curia che ha sottoscritto questo accordo con il Comune di Cavras I terreni dove ci sono gli scavi passeranno per 10 anni nella gestione del Comune di Cavras Quindi è senz'altro risultato importante Perché il Comune di Cavras aveva già operato per quanto riguarda i terreni con termini all'area di scavo Quindi è tutta un'area che a breve passerà nella piena gestione del Comune di Cavras Recinzioni all'altezza del patrimonio che racchiude Segnalazione del sito, servizi igienici Tutto quello che in un futuro si spera prossimo Servirà a rendere la piana di Monteprama fruibile ai visitatori Una spesa che secondo stime è ancora approssimative Si aggira attorno ai 30.000 euro Risorse che il Comune di Cavras ha già a disposizione Per quanto riguarda logicamente l'eventuale apertura Questi invece sono di piena competenza della subitenza archeologica Con il quale il Comune, come ha sempre fatto, avvierà immediate interlocuzioni La Curia avrà in cambio un piccolo agio Che una volta aperta l'area alle visite Sarà pari al 10% del costo del biglietto d'ingresso Il ricavato sarà investito nella valorizzazione dei beni culturali La finalità è quella di mettere a disposizione un sito Che è di interesse non solamente della Curia o della Chiesa Ma di interesse universale Il gremio dei Falegnami domani, 19 marzo, eleggerà il nuovo maiorale in cabo L'elezione avverrà proprio nel giorno in cui si celebra la festività di San Giuseppe Santo protettore dei Falegnami Il gremio con i suoi componenti sarà chiamato a nominare il successore di Mauro Lichieri Colui che ha ricoperto la carica di presidente nell'ultimo anno Affidando il ruolo di compoedori della Sartiglia a Giuseppe Sedda Secondo le voci della vigilia sembra che il gremio voglia dare spazio ad un ricambio generazionale Favorendo l'elezione di un giovane Novità in vista per il mercato di Via Costa a Oristano Presto potrebbero essere assegnati i box rimasti vuoti L'ipotesi è al vaglio della quinta commissione consigliare per il commercio Sentiamo Quello del Sacro Cuore è un quartiere molto popoloso di Oristano Via Costa ospita da tempo il mercato Una struttura che per i residenti del rione e per quelli vicini è ormai un'istituzione Nei box una decina in tutto di cui un paio al momento inutilizzati si possono acquistare frutta, verdura, carne Manca però ad esempio il panificio Problema che presto potrebbe essere risolto grazie anche alla quinta commissione consigliare del comune Decideremo se fare un nuovo bando o no Sappiamo che ci sono dei stali vuoti Vedremo come comportarci La commissione oggi è riunita per discutere e decidere in giornata su cosa fare L'obiettivo è dunque quello di garantire ai cittadini oristanesi anche la possibilità di usufruire di tutti i servizi del mercato di Via Costa Una realtà in movimento che vuole e può espandersi L'obiettivo è tenerlo aperto perché quella zona è molto popolata Sono un paio di quartieri e sarebbe un peccato e un danno a tutti i cittadini di quei quartieri non tenere aperto il mercato di Via Costa Questa è una mia idea personale che lo porrò alla commissione Anche sentendo gli operatori del mercato Loro vogliono che quei stali che sono vuoti di essere occupati Abbiamo parlato con i operatori, sono contenti e hanno bisogno di un po' di attenzione in più Dal lunedì 20 marzo inizierà la distribuzione alle famiglie oristanesi meno abbienti delle chiavette per l'utilizzo gratuito delle casette dell'acqua Poco meno di 400 i beneficiari delle tre linee comunali della povertà Attraverso l'assessorato e i servizi sociali verremo incontro ai nuclei familiari in difficoltà Spiega l'assessore Fisio Sanna Con le chiavette si avranno a disposizione 700 litri di acqua Gli interessati dovranno ritirarle nella sede comunale di Via Carlo Meloni il lunedì dalle 14 alle 17.30 Il giovedì dalle 8 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 17.30 E adesso ci spostiamo a Bosa dove sono al vaglio degli enti interessati alcune soluzioni per arginare il fiume Temo Si continua a dibattere sul piano che dovrebbe ridurre i rischi idrogeologici ed idraulici derivanti da una eventuale piena del Temo a Bosa Se ne è discusso nei giorni scorsi in un'assemblea fortemente voluta da molti E' presieduta dal sindaco Luigi Mastino Sul banco degli interrogati gli ingegneri della Valms Ingegneri Redattori del progetto molto discusso Qualche passo avanti è stato fatto ma sono rimasti degli interrogativi Il grande argine muraglia largo 16 metri alto 180 che doveva essere situato a riva sinistra del Temo A monte del Ponte Vecchio sottraendo una bella fetta di terreno coltivabile Sarà invece un muro di cemento armato rivestito di trachite In un'altra parte molto discursa del progetto era previsto l'aumento delle spallette di 60-70 cm di fronte alle conce La cosa aveva suscitato molte proteste per l'eventuale impatto visivo L'ipotesi assuale è invece quella di prevedere delle strutture mobili in caso di allarme arancione Da smontare quando il pericolo fosse cessato Sulla riva destra per il lungo Temo dei Gasperi dovrebbe invece proseguire un muro di contenimento Fino al canale di smaltimento del Saliderru Continuerà inoltre il banchinamento insieme alle spallette Nella riva opposta dal piazzale Nassiria fino alla contraforte della 129 Sarà realizzato un argine Tutti i lavori da realizzare prevedono però una durata di 50 anni Mentre il piano di assetto idrogeologico vuole 200 anni Il tutto poi è subordinato all'efficienza piena della diga di Montecrispu Che deve essere operativa e collaudata, cosa ancora lontana È tutto per questa edizione del nostro telegiornale Grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana Grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana